Siamo qui con il maestro Pennino, Lodovica e Alessandro, intanto ciao! Ciao! Allora, siamo qui perché loro sono i protagonisti di Zootropolis Music Star. Partiamo subito dal cappello di Lodovica, perché io l'ho notato subito, volevi entrare subito in... Cosa vuoi che ti... Non so come l'ho... È un coniglio, è un coniglio! Niente, volevo entrare nel mood Zootropolis e... Sì, e ringraziate che non ho scelto quello con le orecchie lunghissime da coniglio, perché non passavo dalle porte. Potevi portarlo per Alessandro, sarebbe stato un coniglio. Sì, la prossima volta mi attrezzo, lei maestro che cappellino vorrebbe? Che stai bene con un cappellino in genere. Sì, ma che animale, un grino ceronte, un... No, un coniglietto. Un coniglietto, dai, allora saremo tre coniglie. Allora, intanto mi raccontate un po' di questo contest, così lo raccontiamo anche ai nostri lettori che magari potrebbero anche partecipare. Ci auguriamo che partecipino in tantissimi. Questo contest è un contest musicale dove chiediamo ai partecipanti di iscriversi, di scaricare la base della canzone di Shakira dal sito e di farla fondamentalmente propria. Devono prenderla, ascoltarla, interiorizzarla e riproporcela a loro modo. Quindi chiediamo di reinterpretarla a loro piacimento, con qualsiasi genere musicale, suonarla con qualsiasi strumento, insomma, di non avere assolutamente pregiudizi né limiti. E soprattutto di divertirsi. Esatto, l'abbiamo detto per tutto questo tempo. Noi cerchiamo da ruolo di giudici finti, quasi, perché siamo giudici buoni. Ci aspettiamo dei talenti divertenti. Cioè non delle cose seriose dove uno si deve impegnare. Magari noi cerchiamo anche appunto il divertimento, magari che uno canta davanti alla telecamera ballando in modo strano, quindi che faccia ridere. Quindi cerchiamo un po' di... un tocco di divertimento, un tocco di felicità in più. In più vorrei dire... uno può scaricare i ragazzi che decidono di iscriversi. Può scaricare sia la base, può scaricare sia anche lo spartito con gli accordi, con la chitarra. Magari facendo un arrangiamento loro riescono a dare anche una partecipazione diversa proprio all'interpretazione. Magari appunto uno lo suona a lui, se lo arrangia lo fa in maniera reg o piuttosto lo fa swing, come dicevamo prima. E quindi questa potrebbe essere ancora un'altra occasione per personalizzare questa interpretazione. Per quanto ci riguarda noi saremo dei giudici divertiti, soprattutto dal loro divertimento. Questo è il nostro motto. Qual è una cosa che voi sperate di vedere o sperate di trovare nei video che vedrete? Oltre ovviamente a non prendersi troppo sul serio e a dare il proprio contributo personale. Per quanto mi riguarda, vabbè, credo comunque a tutti ci piacerebbe trovare qualcuno che sia veramente un fuoriclasse, ma nel senso che esca dagli schemi. Quindi che ci sorprenda, che ci faccia dire, ah però hai capito questo, questa non me l'aspettavo. Esatto, non voglio dire mi aspetto questo, semplicemente che ci sorprendano, che ci facciano dislocare la mandibola. Esattamente, cioè ci aspettiamo qualcosa che ci lasci a bocca aperta. Esatto, esatto, una cosa diversa. Cioè non, appunto come diceva lei, non mi aspetto questo, 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 anzi mi aspetto tutt'altra cosa. Cioè mi aspetto qualcosa che non mi aspetto. Ecco. Esatto. Poi noi vediamo Zootropolis e la città, e c'è questa città in cui ci sono tutti questi animali. Se voi viveste a Zootropolis, se voi foste uno degli animali, chi sareste e che lavoro fareste, secondo voi? L'ho detto poco fa, io sarei il bradipo, perché sono uno molto lento, con i suoi tempi, e sono così. Mi sento proprio il bradipo. Io sarei, penso, una coniglietta, perché mi sento piccola, però so di essere molto determinata, è che se ho un obiettivo lo posso raggiungere con lo sforzo e la concentrazione. Io dico la cosa che ho detto prima, insomma, per me ogni giorno è diverso, quindi un giorno mi sento forte, quindi un leone, un altro giorno mi sento coniglietta, no, mi sento un coniglio, insomma, oppure mi posso sentire un rinocenonte, insomma, ogni giorno è diverso, quindi non mi identifico con un solo animale. Quindi come abbiamo visto nel trailer, va a essere uno scambio interessante, voi due. Esatto, sicuro che non ci sopporteremmo. Io tutta accelerata. Saluto a tutti i rettori di Ginger Generation. Ciao. Ciao. Non so più se è solo una passione, cioè, è proprio, capisci? Che carino. Io non ho preso un cazzo. Che neanche io. Che neanche io. No, grazie a tutti.